Il Consiglio Provinciale Straordinario di Pescara ha analizzato questa mattina il documento presentato da Antonio Di Marco, consigliere provinciale PD e sindaco di Abateggio in merito all'accorpamento dei piccoli comuni, condiviso da tutti i consiglieri presenti. Soddisfazione è stata espressa da Di Marco che nel documento spiega come il provvedimento determinerebbe gravi difficoltà gestionali ai territori interessati, senza tenere conto della diversità espressa dalle varie municipalità. La mozione propone il voto contrario a tale decreto al fine di consentire agli enti preposti di rivedere la scelta assunta. Adesso il presidente della provincia Guerino Testa, che ha approvato il documento assieme al presidente del Consiglio, Giorgio De Luca, avrà il compito di comunicare tale iniziativa del Consiglio Provinciale di Pescara al prefetto e al presidente del Consiglio dei Ministri. Una battaglia quella di Di Marco che è iniziata un mese e mezzo fa subito dopo la presentazione della proposta di accorpamento dei comuni sotto i mille abitanti ed ormai entrata pienamente nel vivo con il governo che continua, secondo Di Marco, a mostrarsi sordo e cieco davanti alle proposte degli enti locali.